Non li ha citati tutti, c'è anche Carlo Sibiglia che al Movimento 5 Stelle diceva che Draghi va arrestato e si ritrova sottosegretario all'interno. Se hai detto il mio pezzo lo vedi in prima pagina di oggi. Voleva arrestare Draghi e ha sbianchettato i suoi Twitter. E vabbè, infatti adesso è sottosegretario agli interni, quindi magari gli manda Trallusco e Brusco un paio di spettori questa notte adesso, a parte gli scherzi.